let's go butchers sono sempre io power il vostro guardiano preferito e sono qui con un altro piccolo e brevissimo tutorial per trovare un altro spettro come avete visto che ho già fatto un tutorial subito fresco fresco per sbrigarmi su come trovare i primi 5 spettri ora siamo arrivati a 10 ma bene c'è un undicesimo spettro abbiamo controllato su internet e sì questo spettro è l'undicesimo più o meno ora 62 63 persone l'hanno trovato spero che voi possiate essere comunque tra le prime persone a trovarlo grazie a questo video vi basterà andare nel giardino nero nella missione della storia e seguire il path che sto facendo io e qui dove vedete pelle bene lì è dove troverete lo spettro spero vi sia piaciuto questo video spero vi dia una mano comunque ad aumentare il vostro kimono è completamente legit non ci sono bug glitch niente dovete solamente seguire questa strada e lo troverete dentro a quel buco di prima io spero vi sia piaciuto questo video su come trovare questo spettro ringraziamento speciale a pelle 981 per avermi detto questo tips io vi saluto bitches ci becchiamo al prossimo video let's go